Depuratore ancora stallo sulla collocazione del secondo impianto di vallata, il consigliere Pignone l'ipotesi di Seriallo è difficilmente praticabile. Tre barche da pesca distrutte dalle fiamme a Rapallo, vigili del fuoco in azione questa mattina davanti all'antico castello, indagini in corso per stabilire l'origine delle fiamme. Un viaggio a forte dimensione ecumenica ed interreligiosa, il Papa parte venerdì per la regione del Caucaso in calendario 10 discorsi fra Georgia e Azerbaijan. Apriamo gli occhi per vedere il bisogno dei poveri e dei sofferenti accanto a noi, è l'appello del Vescovo nella celebrazione per gli ammalati a Montallegro. Stili di vita corretti, diagnosi precoce, terapie mirate, le parole chiave nella lotta al tumore al seno, l'importanza della prevenzione al centro di un convegno che si è svolto a Chiavari. Due giorni a Rapallo per parlare dei giochi di una volta, lo sport può essere uno strumento utile per prevenire e curare la dilagante intossicazione digitale tra i giovani. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. Niente di fatto dall'ultimo incontro sul depuratore per il Tiguglio orientale. I sindaci coinvolti non hanno trovato un vero e proprio accordo su un'area precisa. La città metropolitana ha raccolto i pareri e adesso redigerà quattro studi su altrettante aree, Ramaia, Sesti Levante, Seriallo, Aleivi, il di Lavagna e la colmata di Chiavari. In concreto pesano però alcune perplessità, soprattutto quelle della città metropolitana sulla piana del Seriallo. Vediamo. Città metropolitana perplessa sul depuratore al Seriallo. La proposta del sindaco di Levi non trova il sostegno del consigliere Enrico Pignone. Ciò si aggiunge al no, sempre più irremovibile del comune di San Colombano-Certenoli. La relazione di prefattibilità ambientale sul Seriallo, promossa da Vittorio Centanaro, vede aspetti positivi nel progetto, come la messa in sicurezza dell'area esondabile e la riqualificazione di via Gazzo. Per Pignone però, risolto un problema, se ne creerebbe un altro. Quello che mi si chiede è quello di fare degli argini, proprio in protezione a un eventuale depuratore in costruzione lì, ma questo mi comporterebbe, ci comporterebbe una problematica a valle che dovrebbe a questo punto tenere in considerazione che l'argine non è solo quello di contenimento della parte di San Seriallo, ma tutti i 7 km poi a valle fino alla parte bassa, alla foce. Io personalmente ritengo che quell'area lì dovrebbe rimanere in quella situazione possibile di esondazione. Non lo ritengo l'area idonea per farci un depuratore. Al recente incontro con i sindaci anche Lavagna ha ribadito il proprio no. Il commissario Dattilio non darà l'assenso al depuratore in zona rossa. Il battibecco tra comuni dunque non sembra portare da nessuna parte. Il progetto di un impianto unico alla colmata di Chiavari finora è l'unico che rimane in piedi. Quello che è oggi deliberato è quello, il mio impegno è quello di superare un po' le conflittualità e trovare il massimo comune depuratore dove ci troviamo d'accordo tutti e cerchiamo di evitare conflitti inutili e non pensare a nessuna campagna elettorale futura. L'ente metropolitano ha dato l'incarico ad IREN di fare uno studio per la zona della ramaia di Sesti Levante e tre approfondimenti. Seriallo, Lavagna e il depuratore incolmata a Chiavari ridotto da 210.000 abitanti a 140.000. Al termine si riunirà alla conferenza dei sindaci per la votazione finale, ma quali saranno i tempi? Io sono confidente del fatto di indire la conferenza dei sindaci entro a fine di ottobre. La situazione del depuratore unico del Tiguglio orientale non si riesce proprio a sbloccare e questo a danno dei cittadini. A dirlo Gabriele Pisani, portavoce dei 5 Stelle in Regione, che punta il dito contro i sindaci che non riescono a superare i campanilismi, dice, ma anche ha la scelta di aver affidato a dire nella gestione del servizio idrico del lato genovese. Secondo Pisani occorrerebbe cambiare la tecnologia dell'impianto per risolvere il problema e spendere meno sia sulla realizzazione sia sulla gestione del depuratore. La cronaca, un incendio ha distrutto questa mattina tre barche in vetroresina che erano custodite all'interno dell'area concessa ad un'associazione dilettantistica che si trova proprio davanti all'antico castello sul mare di Rapallo. State vedendo le immagini. Alle 4.50 del mattino i vigili del fuoco del distaccamento rapallese sono stati chiamati per spegnere le fiamme che per cause ancora in via di accertamento sono scaturite da una delle imbarcazioni presenti, tirate in secca dopo la battuta notturna. A prendere fuoco presumibilmente il motore di una di queste, anche se non si esclude, il gesto doloso. Le operazioni di spegnimento si sono protratte sino alle 6.30. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri il rogo è stato subito circoscritto e non ha interessato altre imbarcazioni. Questa mattina molti curiosi si sono affacciati dalla passeggiata mare sovrastante per guardare quello che è rimasto delle tre barche. Indagini sono in corso anche da parte dei carabinieri e della capitaneria di Porto. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e si stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per risalire con certezza all'origine delle fiamme. E dalle immagini di Vittorio Canepa andiamo all'incidente di questa mattina sull'autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Il conducente di un auto articolato ha perso il controllo del mezzo mentre era nella galleria San Bartolomeo ed è andato a sbattere contro la parete del tunnel bloccando alla fine la careggiata. A provocare la sbandata il rimorchio vuoto sbilanciato dalla cunetta della galleria. Infruttuoso il tentativo di controllare il mezzo per il conducente che fortunatamente non ha riportato ferite gravi e per precauzione è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dove è risultato negativo ai test di droga e alcol. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli ma il traffico è rimasto bloccato a lungo. Sul posto sono entrati in azione gli uomini di autostrade per l'Italia e quelli del comando chiavarese della polizia stradale che hanno avviato il ripristino del traffico e la rimozione del mezzo incidentato. Otto i chilometri di coda registrati andati defluendo poi nel corso della mattinata e le operazioni di bonifica del manto stradale hanno richiesto dunque alcuni lavori in più. Adesso a Sesti Levante dove si sono conclusi i lavori di pulizia sui corsi d'acqua in particolare sul rio Battana, San Sebastiano, Staffora, rio di Vicocuneo, rio della Valletta, rio Ravino, rio Emilia, il Fondeghino, rio Vallelago e rio Bardi nonché su alcuni tratti lungo il torrente Gromolo. Inoltre è stato effettuato un intervento integrativo sul rio Bardi a monte del tratto già interessato dalla manutenzione poiché questo corso d'acqua ha raccolto le acque provenienti dalla zona distrutta dall'incendio del 9 settembre scorso. Inoltre si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria del Piede della Briglia in località Cascata sul torrente Petronio e sul rio Staffora dove è necessario effettuare il ripristino delle condizioni di sicurezza del muro di sponda che presentava segni di cedimento. La Giunta regionale ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione 2016-2018, a monta 114 milioni di euro di cui 61 relativi a nuove risorse vincolate. Vediamo alcuni aspetti, 840 mila euro saranno usati per garantire il biglietto integrato bus più treno in provincia di Genova e 8 milioni per migliorare il sistema di bigliettazione elettronica. Un milione di euro andrà ai piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti per effettuare investimenti, 5,5 milioni di euro sul settore ambientale, 3,7 di confinanziamenti per l'edilizia sanitaria, 4 milioni di euro per il fondo gravi disabilità, 800 mila euro per l'impiantistica sportiva. 2,5 milioni sono previsti per investimenti nel settore del commercio, 9,8 andranno al confinanziamento regionale per la programmazione dei prossimi anni, sino al 2020, del Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e il Fondo per la Pesca. Siamo ora all'informazione religiosa, un viaggio di pace a dimensione ecumenica ed interreligiosa. Così il direttore della Sala Stampa Vaticana che ha definito il viaggio del Papa in Georgia e Azerbaijan che prende il via venerdì prossimo. Radio Vaticana ha raccolto la testimonianza di Monsignor Rafael Minassian, ordinario per gli armeni cattolici dell'Europa orientale, una presenza particolarmente numerosa nella regione caucasica. Sentiamo. La nostra presenza in Georgia è quasi dal fine del IV secolo e V secolo. Gli armeni cattolici oggi in Georgia e soprattutto nei villaggi sono i genitori, nonni. La gioventù non c'è tanto. I due terzi della gioventù sono fuori a lavorare. Com'è il rapporto proprio di dialogo con per esempio la chiesa ortodossa? Non ci sono per esempio troppi matrimoni misti. C'è anche questo nazionalismo, ma in fondo in fondo quello che dà la gioia a tutti e due, la loro fede cristiana è profonda. Sono separati, ma vivono per Cristo, ciascuno ha il modo suo. Lei in questo momento è presidente di Caritas Georgia. Ci può dire quali sono i bisogni a cui rispondete? E se c'è anche sotto questo profilo una collaborazione? Non c'è la loro Caritas, ma ci sono tanti ortodossi che lavorano nella Caritas. Il nostro scopo piuttosto in Georgia è basato su tre, quattro punti di partenza. Sono i vecchi, ci sono gli orfani, la gioventù o le famiglie che sono rimaste in una povertà assoluta e gli ammalati. In Armenia il Papa ha usato un linguaggio molto schietto. Che cosa prevede per l'Azerbaijan? Cosa si augura anche per i rapporti reciproci? Io vedo nella persona di Papa Francesco l'uomo che ha preso la croce di Cristo sulle sue spalle e lui, rappresentante di Cristo sulla terra, ha da camminare di tutte queste vie a spiegare efficacemente il significato sia della verità che della libertà che della pace. Oggi, giornata mondiale del turismo, il Papa invita ad evitare ogni forma di discriminazione. Andiamo sul sito della Radio Vaticana. La giornata di oggi è indetta dall'ONU ed è incentrata sul tema Turismo per tutti, promuovere l'accessibilità universale. E Papa Francesco ha lanciato sull'account Twitter questo messaggio. Promuoviamo, scrive il Santo Padre, un turismo sostenibile che porti sviluppo e incontro con le popolazioni locali ed eviti ogni sorta di discriminazione. Quello spiccato dal Papa, dunque, è un turismo dal volto umano. Un messaggio importante anche per un territorio come il nostro che tra le altre cose vive di turismo. Vediamo adesso i nediocesi. Il Vescovo ha celebrato l'Eucarestia a Montallegro in occasione del pellegrinaggio annuale degli anziani e degli ammalati e ha formulato un invito accorato a prendere sul serio i bisogni di chi soffre ed è accanto a noi il servizio. La fiducia nella ricchezza acceca, acceca al cuore rendendolo sordo alla parola di Dio e la vista perché impedisce di accorgersi del povero che è accanto a noi. Il Vescovo Alberto Tanasini ha ribadito un prestante appello all'accoglienza di chi soffre e versa in condizioni di difficoltà come ha già fatto in più occasioni celebrando l'Eucarestia al Santuario Mariano di Montallegro in occasione della Messa annuale per le persone anziane e ammalate. Il Vescovo è partito dal commento al Vangelo del giorno per allargare lo sguardo formulando un invito universale che suona come un auspicio per l'anno della misericordia. Avere gli occhi aperti su coloro ai quali possiamo fare un minimo di bene su chi ha bisogno, chi ha necessità accorgerci e avremo la sorpresa di vedere su quel volto il volto di Cristo il volto di Cristo risorto. Un invito immediatamente raccolto dalle persone che hanno accompagnato anziani ed ammalati a Montallegro. Spesse volte invece andiamo troppo di corsa e ci dimentichiamo di guardarci intorno e vedere quanta gente avrebbe bisogno anche semplicemente di una carezza. Una stretta di mano, dicevo, una carezza. Sì, una parola, un sorriso, anche basta solo quello per farli felici, per vederli sorridere. Nel corso della celebrazione il Vescovo ha impartito l'unzione degli infermi alle persone che hanno partecipato al rito fra cui molti ammalati e diverse persone anziane di Rapallo. Per noi Rapallini, Montallegro è sempre un andare a casa dalla Madonna e oggi in particolare sono contenta di aver portato la mamma. E Olga, cosa dice? Eh, dico che mi pesano gli anni. 95. Sì. E complimenti, eh? Insomma. E li porta benissimo. E 95 l'ho passato, li ho fatti in aprile. La cerimonia in chiesa con l'unzione degli infermi e poi la consegna della preghiera del Papa è stata una cosa eccezionale. E qui mi pare che la gente sia abbastanza contenta. Alcune comunità parrocchiali della nostra diocesi si apprestano ad accogliere il nuovo parroco. Sabato primo di ottobre farà il suo ingresso in alta Val Fontana Buona Don Matteo Benetti. Alle 15.30 il Vescovo lo accompagnerà al santuario di Nostra Signora della Guardia a Gattorna. Dopo l'accoglienza sarà celebrata la messa e seguirà un momento di festa. Domenica 2 ottobre Don Benetti incontrerà le altre comunità celebrando la messa festiva alle 9.30 a Rocca Tagliata, alle 11 a Neirone, alle 16 a San Marco Durri e alle 18 a Donio. Sempre domenica 2 di ottobre farà il suo ingresso a Santo Stefano del Ponte a Sesto in Levante il nuovo parroco Don Marco Torre. Ad accompagnarlo sarà il Vescovo che alle ore 15 presiederà la Santa Messa e la liturgia d'ingresso. Domenica 9 di ottobre inizierà ufficialmente il mandato come amministratore parrocchiale Don Stefano Libini in Alta Val Graveglia. Il Vescovo lo accompagnerà a Repia dove sarà celebrata la messa alle 15.30. Don Stefano sarà amministratore nelle comunità di Arzeno, Repia, Statale, Zerli, Nascio e vice parroco a Maria Madre della Chiesa di Lavagna. Prendono il via domani i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Soglio di Orero. Alle 20.30 la messa ai piedi dell'edicola dedicata al Santo in località Pian dei Ratti con l'offerta dei fiori da parte dei bimbi. Giovedì 29, giorno della festa, alle 18.30 la messa solenne presieduta da Monsignor Lelio Roveta cui seguirà la processione. Al termine un momento di festa sul piazzale della Chiesa con rinfresco, serata musicale, l'apertura di una mostra fotografica in canonica e infine lo spettacolo pirotecnico. Cambiamo tema, parliamo di sanità. Oggi al cancro si sopravvive in percentuali sempre maggiori, tuttavia un nuovo e preoccupante trend sta emergendo. Aumentano infatti i nuovi casi tra le donne toccando quota 176.200 nel 2016. Questi dati del censimento ufficiale raccolto nel volume i numeri del cancro in Italia 2016 che è stato presentato oggi. In particolare quest'anno sono stimati 50.000 nuovi casi di tumori al seno, erano 48.000 nel 2015. I tumori al seno, gli esperti rispondono, è stato il tema di un convegno che si è svolto nei giorni scorsi all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Diversi gli esperti che si sono confrontati su questo aspetto hanno sottolineato l'importanza della prevenzione per contrastare l'insorgere di una delle patologie neoplastiche più diffuse nella donna. Sentiamo. Rappresenta la prima causa di morte nella donna, un terzo delle patologie neoplastiche femminili, con un'incidenza che negli ultimi anni non ha smesso di crescere. Il tumore al seno è un'emergenza sanitaria che i paesi avanzati devono affrontare con decisione per combatterla, puntando sempre di più sui corretti stili di vita, la prevenzione e la diagnosi precoce. Esiste la prevenzione, la diagnosi precoce, che è importantissima anche nel rilievo del tumore, e le terapie che sono sempre più sofisticate, sempre più mirate alla tipologia istologica, cioè della cellula del tumore. Il tema del tumore al seno è stato al centro di un convegno che all'auditorio San Francesco di Chiaveri ha chiamato e raccolto alcuni esperti che hanno affrontato il tema da diversi punti di vista. Nel corso dei lavori è emerso come questa malattia sia sempre più diffusa nei paesi cosiddetti sviluppati, mentre è quasi assente nei paesi più poveri. Un dato che evidenzia come fattori primari, come la qualità dell'aria, il movimento e l'alimentazione, diventino fondamentali per contrastare il suo insorgere. Ci sono le verdure, la curcuma, tutto un insieme di alimenti di tipo vegetale che portano sicuramente a una protezione da parte di questi. L'altro elemento importante è il movimento, ma il movimento vuol dire anche non obesità. Importante poi per le donne di tutte le età il controllo, che si può fare partendo già dai 20 anni, dal gesto più semplice come l'autopalpazione, per arrivare ai 45 anni alla mammografia, passando attraverso un esame diagnostico semplice e immediato come l'ecografia. L'ecografia è una diagnostica assolutamente innocua. In questo punto io penso che già dai 30-35 anni fare un'ecografia all'anno ha una sua logica. Poi subentra il grosso problema degli screening, cioè della mammografia, di altre indagini. E qui andiamo, normalmente si va su dai 45 ai 50 anni, però ci sono, quando c'è un'ereditarietà, quando ci sono dei fattori di rischio, queste cose si anticipano. Balneari e ambulanti domani in Piazza Roma contro la direttiva Bolkestein. La manifestazione nazionale prevede un corteo a cui sono chiamate raccolta tutte le categorie contrarie alle evidenze pubbliche delle concessioni. La mobilitazione, organizzata da alcuni comitati, senza l'appoggio delle associazioni nazionali di categoria, vedrà però un significativo numero di imprenditori. Annunciata la presenza a Roma, al fianco degli ambulanti Liguri, anche l'assessore regionale al commercio Edoardo Rixi, il quale dice, ci auguriamo che la grande mobilitazione di piazza di domani costringa il governo a non applicare la direttiva, sia sugli operatori del commercio, su aree pubbliche, comparto che in Liguria conta circa 8.000 imprese, sia per le 3.000 imprese balneari Liguri. Rivedere l'orario del punto di prima vendita del pesce di giornata a Sesti Levante lo chiede un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale con 23 voti favorevoli e 4 astenuti. Il documento impegna la Giunta a chiedere agli uffici della Regione di sollecitare il Comune di Sesti Levante affinché si adoperi per l'individuazione di una soluzione equilibrata, di concerto con i soggetti interessati e tenendo conto delle esigenze di tutti. Ho condiviso in pieno, spiega il Consigliere Claudio Muzio, anche la sollecitazione al Comune Sestrese a modificare il regolamento comunale nella parte avente ad oggetto la revoca delle concessioni. Ad oggi si rischia infatti di penalizzare ingiustamente la pesca alla lampara che è fortemente condizionata dagli eventi stagionali, ha concluso Muzio. E questa mattina il Consiglio regionale ha approvato il provvedimento sul riutilizzo dei porticati che ha come primo firmatario Andrea Costa, presidente della Commissione Territorio Ambiente. In sostanza si dà la possibilità alle attività professionali di chiudere i porticati privati e allargare gli spazi. La proposta di legge è stata approvata col voto favorevole del centro-destra e l'astensione della minoranza. La legge vigente già consentiva interventi di recupero di parti dell'edificio, senza modifiche però della sagoma esterna. Ora questa possibilità viene stesa anche ai porticati purché siano privati o ad uso privato. Siamo alla pagina culturale. È stata la seconda edizione del Festival della Punteggiatura moderata dal giornalista di TV2000 Saverio Simonelli a chiudere di fatto la stagione estiva degli eventi di Santa Margherita Ligure. Per la cittadina una stagione positiva che ha visto la presenza di numerosi turisti e numerose famiglie. E proprio per i più piccoli sono rivolte altre due iniziative per i prossimi due fine settimana. Sentiamo. Un festival che lo scorso anno è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dagli organi di informazione e che devo dire quest'anno si è qualificato come festival d'eccellenza con la presenza di una serie di relatori come i due accademici della Crusca, il professor Sabatini e il professor Coletti che sono gli autori del noto edizionale della lingua italiana. Ma abbiamo unito anche all'anima accademica, un'anima più propriamente artistico-teatrale con la presenza di Luigi Maio. Abbiamo avuto ospiti internazionali come D'Ur e Matt dalla Francia. Devo dire che davvero è stato molto interessante per affrontare un tema specifico, come dire una varietà di punti di vista che davvero l'hanno reso molto curioso e appettibile per il pubblico. La ciliegina sulla torta di un'estate ricca di eventi, di iniziativa, come è andata? Devo dire che il bilancio conclusivo dell'estate credo sia molto positivo da un punto di vista dell'organizzazione degli eventi culturali, turistici. Abbiamo cercato di costruire un menù che consentisse ogni giorno ai cittadini e ospiti di potersi intrattenere e col divertimento e con la riflessione alla cultura. Ci sono stati tanti spettacoli di carattere teatrale, di carattere musicale, di carattere artistico, di carattere letterario. Credo come dire che ce ne fosse per tutti i gusti e sostanzialmente la partecipazione è stata anche molto nutrita perché è stata turistica con grandi numeri e credo anche la qualità del risultato sia positiva. Insieme agli eventi per gli adulti avevamo anche un programma specifico per le famiglie e per i bambini. Anch'esso mi pare molto divertente e partecipato. E non si finisce qui comunque? Sì, adesso abbiamo due eventi importanti e nuovi che il Comune di Santa Maria Vita realizza insieme all'ente Parco di Portofino. Sono due eventi all'interno del Parco di Portofino. Il 2 di ottobre una giornata musicale in cui attraversando i sentieri del parco si potrà fermarsi in varie tappe per ascoltare diversi strumenti musicali e diversi tipi di musica. invece sabato 8 ci sarà una storia a Robin Hood ambientata nel Parco di Portofino con delle postazioni che sono tappe sequenziali di questa storia. I bambini possono insieme ai genitori camminare nel parco, fermarsi e ascoltare pian piano questa storia che si sviluppa e arriva dall'inizio alla fine. Andiamo sul sito ANSA della Regione Liguria per un'iniziativa culturale che si è svolta questa mattina. E' stato infatti assegnato all'archeologo Andrea Carandini presidente nazionale del FAI il premio Isaia Berlin 2016. La consegna è venuta questa mattina a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure vedete anche la foto sede dei corsi internazionali di studi italiani dell'Università di Genova che ha istituito proprio questo premio. Durante la cerimonia è stata ricordata la figura filosofica di Berlin. Moderatore è stato il direttore del corso di studi Roberto Sinigaglia. Classe 1937 Andrea Carandini è uno dei maggiori archeologi italiani uomo di cultura e presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali nel periodo tra il 2009 e il 2012. Da tre anni è presidente del FAI il Fondo per l'Ambiente Italiano. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani poi ci ritroviamo con le altre notizie e la pagina di Sport. Appuntamenti in agenda per mercoledì 28 settembre fino all'8 di ottobre nello spazio espositivo della tipografia Colombo in via dall'Orso a Chiavari è allestita la mostra fotografica Contaminazioni di Lì a Gnecco gli orari dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. E' aperto al pubblico il Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari dove è possibile trovare dipinti, argenti e tessuti provenienti dalla cattedrale e dalle parrocchie del territorio. Il museo sarà a disposizione dalle 10 alle 12. Roberto Soldatini presenterà il suo ultimo libro Sinfonie Mediterranee in via Portobello 2 a Sesti Levante e sede della Lega Navale Italiana Durante la presentazione il maestro suonerà alcuni brani con il suo violoncello Stradivari l'appuntamento è alle ore 18. E infine ricordiamo che l'associazione Artemis Levante che promuove a Rapallo le attività culturali legate al mondo del teatro presenterà domani il nuovo anno accademico con la collaborazione della Compagnia Teatrale della Scuola l'inizio alle 18.30 alla Casa della Gioventù. Via Libera dalla Regione al finanziamento di 20.000 euro per il nuovo bando per l'insegnamento del dialetto nelle scuole della Liguria. Nello scorso anno scolastico, grazie al bando regionale l'associazione Vincitrice accompagna insieme all'associazione Oleudo di Sesti Levante ha portato il dialetto in 45 scuole di Genova, Tiguglio, Golfo Paradiso e Val Fontana Buona per una totale di 161 classi 600 ore di insegnamento e 111 i docenti coinvolti. Visto il successo dello scorso anno ha spiegato la vicepresidente Sonia Viale intendiamo proseguire su questa strada per mantenere viva la conoscenza del dialetto ligure. Al bando per l'anno scolastico 2016-17 possono partecipare le associazioni iscritte al registro regionale del terzo settore anche riunite in associazioni temporanee di scopo. Mario Fiorillo ha vinto la decima edizione del premio di poesia Ugo Carreca promosso dall'associazione Mosaico di Chiavari titolo del componimento è A mio padre l'autore è di Massafra, provincia di Taranto secondo posto per Maria Francesca Giovelli di Caorso, Piacenza con Canto alla vita terzo Giuseppe Mandia di Perugia con Momenti di madre il premio speciale della giuria è andato a Bruno Lazzarotti di Milano per luce al Neon mentre il premio per l'originalità tematica è stato vinto da Davide Rocco Colacchi di Bracciolini, provincia di Arezzo autore della poesia Maria dei Meloni la cerimonia di premiazione si è svolta all'auditorium San Francesco di Chiavari e ora siamo allo sport iniziamo da Casarza Ligure dove è stato posato un nuovo manto erboso per il campetto della polisportiva casarzese che finalmente torna a disposizione di tutti vedete le foto con il contributo economico del comune è stato posato un sintetico di ultima generazione in seguito con una variante che sarà discussa in consiglio comunale ha spiegato il sindaco in una nota in un'area vicina sarà realizzato un parcheggio da 25 posti auto collegato al campetto da un passaggio pedonale l'intenzione della giunta a Stagnaro è quella di proseguire l'intervento con la risistemazione dei campi da tennis i giochi di una volta sono stati al centro di una due giorni organizzata a Rapallo dalla società Winner Volley di Santa Margherita Ligure si è posta l'attenzione sulla dilagante intossicazione digitale soprattutto tra i giovani e sullo sport come strumento per creare una rete sociale che possa aiutare i ragazzi a crescere sentiamo anche quest'anno si parla di sport di sport di una volta eh sì, detto bene lo sport di una volta tutti noi abbiamo avuto delle esperienze da bambini dei vari giochi ce li costruivamo ce li inventavamo e in un contesto di di giochi iper moderni super accessoriati una cosa o l'altra il fatto di ricordare che noi altri potevamo giocare anche con due noccioli di pesca dico ma perché non parlare di questo e allora mi sono inventato questa cosa e devo dire che sta avendo un grosso successo per cui abbiamo voluto dare una dimensione a questo concetto del gioco di una volta che forse si sono un po' persi eh sì, decisamente perché poi quello che è il mondo virtuale tecnologico di oggi proprio toglie la fantasia toglie eh la praticità del gioco che soprattutto quello che ti inventavi oggi c'è un'emergenza giovanile straordinaria perché abbiamo dati inquietanti sul sull'uso sulla tossicità a un certo punto no? della dipendenza digitale sull'uso di sostanze tossiche 51% 55% degli adolescenti assunto almeno una volta sostanze psicotrope eh l'alcol e quanto ne va segue eh lo sport oggi è la rete sociale che può portare i giovani a vivere una vita normale e su questo ci impegniamo tutti i giorni perciò portiamo i giovani agli oratori sui campi di pallavolo di basket di calcio portiamo i giovani a fare sport ma soprattutto teniamoceli perché è un altro tema grave è un drop out cioè l'abbandono a livello adolescenziale molte volte ha meglio il telefonino o altro e quindi si ritorna da capo si investe per portare i giovani allo sport ma a 13-14 anni escono e molte volte li troviamo su un giardinetto e se gli va bene hanno un'intossicazione digitale quindi portiamoci e teniamoceli siamo giunti in conclusione a seguire vi ricordo una nuova puntata della rubrica si può dare di più ci ritroviamo domani grazie per averci seguito buon proseguimento di serata grazie per averci seguito